Proseguiamo parlando di privacy con il James Bond della privacy, Riccardo Masutti, esperto di sicurezza informatica e privacy, che invito a raggiungerci sul palco e a prendere il gelato, in modo da cominciare con la sua presentazione, che si intitola Incidente nautico, privacy e bitcoin. Perché incidente nautico? Che problema hanno i bitcoin con la navigazione? Lo scopriremo, un bel applauso per Riccardo Masutti. Grazie Ricc, benvenuto. Ci sono, perfetto. Beh, buongiorno a tutti, io sono arrivato ieri a Lugano, ho fatto un giro nel lago qua, con una barca e ho perso tutti quanti i miei bitcoin. Ricchi, il tuo comando c'è? Ok. Quindi purtroppo è capitata sta cosa, non so se riuscite a vedere bene, purtroppo c'è molta luce, a me piace fare comunque dei slide abbastanza scure, perché sennò è tutta bianca, divento un po' noioso, quindi spero che si veda. Se non si vede, l'importante comunque è ascoltarmi, perché il tema della Praga è molto molto importante. Allora, io stavo facendo un giro nel lago di Lugano ieri, e ovviamente, David Conner che sono, mi sono portato comunque il mio hardware wallet, perché come ben sappiamo è molto importante avere un hardware wallet. Domani tra l'altro farò un altro speech su bitcoin do's and don'ts, cioè cosa fare e cosa non fare. E appunto mentre mi trovo in quell'esatto luogo nel lago, vedete questo punto rosso, ero esattamente là, e purtroppo mi è caduto nel lago l'hardware wallet con il seed, vedete? Quindi a sinistra c'è l'hardware wallet, a destra il seed con un po' di parole che vi chiedo gentilmente di analizzare, perché dopo ci sarà una bella sorpresa per chi ha la vista acuta. E sì, in mezzo ai pesci, poi non l'ho più trovato, e quindi è il tema di oggi. Quindi, incidente nautico, perché la privacy è importante in bitcoin? Mi presento, io sono Riccardo Masutti, mi occupo di cyber security privacy per Bitfinex, e cerco anche nel tempo libero di educare sui temi di sicurezza e privacy, perché? Perché purtroppo, esattamente come nel caso delle persone che installano sistemi di sorveglianza, casse forti e tutto quello che ne consegue, purtroppo queste persone lo fanno solamente dopo che sono vittima di comunque violazioni della propria casa, no? I ladri che ti entrano in casa ti rubano tutto, quindi, ah, aspetta, forse dovrei installare una cassaforte, forse dovrei installare un sistema di sorveglianza. No, bisognerebbe farlo prima, bisognerebbe prevenire queste cose qua. Quindi in realtà il tema della privacy è molto molto importante su bitcoin, come esattamente il tema della sicurezza. Io cercherò oggi quindi di spiegarvi un po' come funziona la privacy a livello di bitcoin, in maniera molto semplice. Io sono abbastanza tecnico, sono un nerd, mi piace parlare di cose complicate, però mi piace anche aiutare le persone a comprendere questi temi, che molte volte sono molto molto difficili, però appunto cercherò di fare il mio meglio. Qui trovate comunque tutti quanti i miei link social, sono su Twitter, link di ma non lo uso mai, GitHub, Mail, Telegram, c'è anche un gruppo, Telegram che si chiama Bitcoin Sicurezza Privacy, in cui potete trovare tante persone come me che purtroppo perdono tutto ogni giorno. Qua sotto trovate anche la mia chiave PGP, che potete utilizzare per confermare la mia identità, e se volete scrivermi il vostro seed in maniera confidenziale, così posso riprendere a avere un po' di bitcoin, perché ripeto, ogni giorno una sfiga incredibile. Allora, inizierei dalla parola criptovaluta, ok? È formata da due parti, cripto e valuta. Valuta la conosciamo tutti, giusto? Cripto è invece una cosa particolare, deriva da criptografia. La criptografia è essenzialmente ciò che mette in sicurezza i nostri bitcoin, nel senso che la matematica mette in sicurezza i nostri bitcoin. Noi non dobbiamo preoccuparci di come in realtà funziona bitcoin, però dobbiamo preoccuparci di dove conservare bitcoin, anzi, di dove conservare le chiavi private che ci permettono di spendere i nostri bitcoin. Ma non solo. Uno dei concetti dietro bitcoin è appunto il concetto di be your own bank, si la tua banca. E capite bene che essere una banca non è assolutamente facile. Cioè, noi ogni giorno andiamo in uno ATM, in uno sportello, preleviamo dei soldi, e possiamo essere abbastanza sicuri, se non ci troviamo in Argentina, in Ucraina, o in altri paesi dove comunque c'è una situazione abbastanza drammatica, di poter comunque ritirare i nostri soldi. Quindi in realtà noi facciamo affidamento a qualcuno che tiene in sicurezza il nostro denaro, il nostro patrimonio, e speriamo appunto che prima o poi, quando vogliamo riprendere dei soldi, possiamo appunto ritirarli. Su bitcoin non c'è nessun garante. Cioè, noi siamo gli unici garanti della nostra sicurezza e privacy. Quindi, oggi cercherò di parlare di privacy, il tema della sicurezza è molto molto importante, però insomma, ripeto, teniamo a mente il concetto del famoso tizio che installa le casse forti e il sistema di sorveglianza solo dopo essere stato vittima di un furto. Un'altra parola, wallet, che poi è sbagliatissima. Noi non abbiamo un wallet in realtà, non abbiamo un portafoglio. Io odio la gente che dice wallet e portafoglio, anch'io lo dico, perché ormai è diventato comunque un nome comune. In realtà è un portachiavi, quello che noi utilizziamo. Un keychain, perché appunto il nostro portachiavi ci permette di gestire più chiavi, pubbliche e private, che ci permettono di spendere i nostri bitcoin. E, ovviamente, bitcoin è formato da più parti. Spero che possiate vedere, io fortunatamente qua vedo abbastanza bene, però. Rete, protocollo e software. Quindi in realtà bitcoin è più di una cosa, non è una criptoaluta, non è un store of value, non è un medium of exchange, non è solo un protocollo, solo un software, è tutto ciò. Bitcoin è tantissimo, non è solamente una cosa, non è solamente speculazione. È composto da tantissime cose diverse. E c'è un'enorme differenza tra il privacy model tradizionale, dove appunto vediamo che ci siamo noi, quindi identities, identità, ci sono le transazioni, c'è una terza parte fidata, appunto, che è la banca, e poi c'è la controparte e c'è il pubblico. Ovvero, noi grazie al sistema bancario convenzionale abbiamo comunque una privacy enorme, giusto? Perché nessuno può farsi comunque i cavoli nostri, tranne la banca. La banca comunque ha una visione completa di come noi spendiamo i nostri soldi. Anzi, di come noi spendiamo e non spendiamo i nostri soldi, perché ovviamente possiamo anche decidere di non spenderli. E questa cosa qua la banca la sa. Nel discorso invece di Bitcoin, prende una piega ancora più drastica, nel senso che è tutto trasparente. Ok? Scordatevi che Bitcoin sia anonimo. Purtroppo in 12 anni da quando esiste Bitcoin, un sacco di persone vi hanno detto che Bitcoin è anonimo, che Bitcoin è utilizzato dai criminali, che Bitcoin permette di fare questo e quant'altro. No. Bitcoin è la cosa più trasparente che abbiamo nella società digitale di oggi. E appunto il privacy model di Bitcoin, a differenza di quello tradizionale dei circuiti bancari, ha solamente tre quadrati. Identità, transazioni e pubblico. La privacy del terreno di Bitcoin non è data dall'anonimato, ma dallo pseudonimato. Nel senso che ogni volta che noi facciamo transazioni, riceviamo dei Bitcoin, spendiamo dei Bitcoin, firmiamo anche dei messaggi volendo, in realtà non c'è il nostro nome e cognome dietro queste transazioni, dietro questi indirizzi, dietro tutto, queste cose che compongono Bitcoin. ma ci sono appunto delle stringhe alfanumeriche che ci, diciamo, identificano in questo network, in questa blockchain. Il problema però qual è? Che tutte le transazioni che avvengono, tutti gli stati, tutti i saldi di ogni indirizzo, sono trasparenti e possono essere visualizzati da tutti. Questo ci fa capire appunto l'importanza del tema della privacy. E la privacy su Bitcoin in realtà non è solo data da questo concetto di trasparenza, del fatto che tutti noi possiamo visualizzare in tempo reale cosa succede, quanti soldi hanno le altre persone, come li spendono, dove li spendono e quant'altro. Perché in realtà la privacy è formata da due sottolivelli su Bitcoin. Cioè la privacy lato blockchain, ok? Quindi appunto tutti questi dati che noi condividiamo al pubblico in ogni secondo, e poi c'è la privacy lato network. Perché? Perché essendo Bitcoin un sistema collegato ad internet che vive grazie ad internet, non solo, ma in generale vive grazie alle connessioni che voi avete con altri partecipanti del network, ecco che ogni volta che effettuate una transazione comunque condividete dei dati sulla vostra persona. Perché? Come ben sappiamo, per collegarsi ad internet non abbiamo bisogno di un IP, abbiamo bisogno di device, abbiamo bisogno comunque di utenze internet intestate a un nome. E capite bene che quindi la privacy su Bitcoin comprende tante cose. Quello che noi scriviamo sulla blockchain e come lo scriviamo, cioè come ci colleghiamo alla blockchain. quindi vedete che ogni volta che fate transazioni, quindi se inviate dei Bitcoin a qualcuno o se li ricevete, in realtà state comunicando a una terza parte il possesso di uno specifico indirizzo. Quindi poniamo per esempio che io invio al signor Mario Rossi un Bitcoin. Fortunatamente parliamo di cose teoriche perché non ho Bitcoin, però appunto poniamo che io invio un Bitcoin. Mario Rossi in quel caso potrà vedere tutte le transazioni che sono avvenute in precedenza a partire da quell'indirizzo. Potrebbe potenzialmente ricostruire l'intero mio patrimonio di Bitcoin e vedere ogni transazione che ho fatto con quell'indirizzo in passato e anche in futuro. Perché io potenzialmente potrei anche riutilizzare lo stesso indirizzo per fare delle transazioni. Cosa che è estremamente sbagliata e lo vedremo poi domani nell'altro speech che parò. Quindi vedete che voi condividete chi siete ok? Se lo condividete a qualcuno che vi conosce essenzialmente è creato un collegamento tra quanti soldi detenete in un indirizzo in particolare e la vostra persona. Grazie però all'absodonimato di Bitcoin se voi inviate soldi o ricevete soldi da un'altra persona e questa persona non conosce il vostro nome e cognome in realtà la vostra privacy è semiprotetta. Nel senso che questa persona non sarà in grado di vedere il vostro nome e cognome sarà in grado solamente di vedere questa stringa alfonumerica lunghissima che non vuol dire nulla essenzialmente però vedrà comunque che avete comunque una quantità di Bitcoin e avete fatto delle transazioni in precedenza. E ovviamente capite che grazie alla decentralizzazione di Bitcoin grazie al fatto che non dobbiamo porre fiducia in una terza parte centralizzata come una banca in realtà la fiducia la poniamo in tutti i nodi che compongono il network nel nostro stesso nodo volendo noi in realtà non abbiamo nemmeno bisogno di fidarci di qualcuno certo possiamo farlo all'inizio la maggior parte di voi utilizzerà dei cosiddetti light wallet quindi dei wallet che sono molto semplici da utilizzare che si collegano al network di Bitcoin e si sincronizzano alla blockchain di Bitcoin però insomma l'obiettivo finale per tutti quelli che vogliono veramente utilizzare Bitcoin in modo corretto è quello di avere un proprio nodo un proprio nodo che quindi ha tutta la storia di tutte le transazioni avvenute dalla creazione di Bitcoin di tutti i saldi di tutti gli indirizzi e di tutto ciò che è successo di tutto ciò che succede e di tutto ciò che succederà questo libro mastro questa blockchain viene condivisa quindi tutti hanno lo stato di tutti tutti vedono tutto non solo ricordatevi quindi che c'è la blockchain ma c'è anche il network e quindi ogni volta che vi collegate un altro nodo o volete sincronizzare qualcosa volete capire qual è il saldo del vostro indirizzo volete trasmettere una transazione andate a condividere anche i vostri IP andate a condividere anche altri dati e un'altra cosa importante che molti non capiscono è che la privacy di Bitcoin non è solamente data da quello che voi fate ma anche da quello che voi dite per quello lo speech di oggi si chiama incidente nautico perché nessuno di voi ha Bitcoin nemmeno io Bitcoin perché ogni volta che voi dite che avete dei Bitcoin essenzialmente lo state dicendo a qualcuno di cui dovete fidarvi giusto ma voi non siete obbligati a dire che avete Bitcoin nessuno può dire con certezza o smentire il fatto che voi abbiate Bitcoin sono voi stessi quindi in realtà questo è un diciamo un inside joke un gioco che tutti i Bitcoiner fanno ovvero ho perso tutto in un incidente nautico e la storia di questo gioco è molto molto interessante perché tanti tanti anni fa in America un sacco di persone avevano delle armi queste armi volevano cioè volevano c'era una sorta di entità centrale che voleva confiscarle quindi loro dicevano ma le ho persi in un incidente nautico non so dove sia non so in un lago in un fiume ecco la stessa cosa accade con i Bitcoin ricordatevi ieri ho perso tutti i Bitcoin in un incidente nautico nel lago è tragica come cosa quindi non ho Bitcoin nemmeno voi avete Bitcoin Ricky non ha mai avuto Bitcoin in vita sua ha un podcast e sono quanti anni non lo so un po' di anni che non ha mai avuto un euro un Bitcoin neanche un Satoshi niente e questa è una regola che dovete imporvi non parlate mai dei vostri Bitcoin perché non c'è nessuno che può dire quanti ne avete quanti non ne avete sono voi stessi allora ricordiamoci quindi come funziona una transazione di Bitcoin è composta da degli indirizzi casuali non c'è il vostro nome e cognome qual è il problema che se voi in realtà poi collegate il vostro nome e cognome a una specifica transazione per esempio andate a comprare non lo so un servizio in Bitcoin o addirittura acquistate Bitcoin mettendo il vostro nome e cognome quindi magari lo comprate da un exchange che fa KYC che gli chiedi documenti oppure li comprate da qualche fortunato che ha dei Bitcoin e vuole venderveli se non l'ha ancora persi e quindi capite che se voi mettete il vostro nome poi c'è essenzialmente un modo di tracciare ogni vostra spesa finanziaria e i dati finanziari sono dati estremamente privati e sensibili perché io con Bitcoin ma come con gli euro potrei comprare magari un abbonamento ad un sito porno perché ho magari un proprio piacere vedere un certo tipo di contenuto una cosa che dovrebbe essere privata oppure immaginiamo che voglia fare una donazione a un partito particolare politico che diciamo si combatte per la privacy o per i diritti umani o ancora potrei decidere di utilizzare Bitcoin ma qualsiasi altra valuta per comunque fare qualcosa che dà fastidio a qualcun altro giusto? ecco che l'ideale sarebbe farlo in maniera privata non possiamo farlo oggi con il sistema Fiat però possiamo farlo con Bitcoin quindi è importante appunto capire che sin da subito sin dai primi giorni del vostro viaggio dalla vostra caduta nella tana del bianconiglio di Bitcoin dovete considerare la privacy come primo elemento fondamentale ovviamente questa cosa poi si ripercuote all'infinito perché se ogni transazione è collegata a quella precedente in realtà capite bene che poi c'è un grafico incredibile tra tutti i partecipanti della rete di Bitcoin per esempio Joe ha inviato ad Alice dei Bitcoin che poi li ha inviati a Bob che poi li ha inviati a Gopesh e purtroppo vedete che c'è sempre un collegamento ed è molto grave come cosa è grave se voi non usate Bitcoin nel modo giusto però se lo usate nel modo giusto comunque siete abbastanza protetti quindi vediamolo magari anche graficamente nel caso che noi utilizziamo una banca la banca conosce tutto ma nessuno conosce niente oltre alla banca quindi i nostri acquisti sono privati nel caso invece di Bitcoin noi potremo comprare magari un qualcosa diciamo condividendo anche la nostra identità reale il nostro nome e cognome e ovviamente dopo magari possiamo andare dal parrucchiere pagare con Bitcoin possiamo comprare una limonata e pagare con Bitcoin quindi capite che è un bel problema dopo se qualcuno riesce a vedere ogni transazione che faccio attribuirla al mio nome cognome la mia identità e potrebbe essenzialmente farsi i miei no? quindi è un problema enorme purtroppo qua non si vedete? beh ecco peccato allora il fatto è che non si tratta solamente di cifre numeri valori volumi c'è tantissimo io in realtà in ogni momento posso vedere il saldo di uno specifico indirizzo posso vedere quante volte è stato utilizzato a quali orari del giorno in quali giorni della settimana che commissioni sono state utilizzate per le transazioni posso vedere a chi ha inviato dei Bitcoin da chi li ha ricevuti posso vedere un sacco di informazioni diverse quindi in realtà partendo semplicemente da come voi utilizzate Bitcoin io posso supporre dove abitate perché per esempio se dalle 11 di sera fino alle 6 di mattina non usate Bitcoin potrei supporre avere una idea che voi abitiate per esempio in Europa giusto? per esempio un esempio molto molto banale o ancora potrei capire qual è il vostro patrimonio perché se in un indirizzo Bitcoin come me non avete niente capite bene che nessuno comunque ha interesse nel seguirvi se invece incominciate ad avere un Bitcoin 10 Bitcoin 100 1000 Bitcoin perché siete molto fortunati ecco che qualcuno potrebbe interessarsi a voi quindi tutte queste cose vanno considerate non potete pensare e dar ascolto ai fuffaguru che vi dicono che il Bitcoin è anonimo perché non ci capiscono nulla di Bitcoin ok? cercate quindi di fare le vostre ricerche cercate di capire studiare cosa c'è dentro Bitcoin perché basta un attimo per fare l'errore più grande della vostra vita io dei errori ne ho fatti molti nella mia vita tantissime persone che conosco hanno fatto tanti errori nella mia vita spero che questo speech vi possa permettere di utilizzare Bitcoin sin da subito nel modo corretto e ancora non si vede benissimo dovete però capire che dall'indirizzo posso anche vedere quando è stato utilizzato la prima volta l'ultima volta quindi avere un sacco di informazioni su di voi che appunto mi permettono di tracciarvi ancora meglio e ripeto questo è tutto pubblico io sono un ragazzo normalissimo che semplicemente magari è curioso di capire cosa fate con i soldi però dovete capire che i soldi sono energia cioè i soldi permettono di cambiare il mondo come vi ho detto prima basta una donazione a un partito che vuole magari cambiare il mondo per veramente cambiare il mondo e se quel partito non è ben visto ok perché magari un partito che è in Cina si occupa di diritti umani potreste avere qualche problema il fatto è che vedete il concetto è sempre quello perché mi dovrebbe interessare la privacy non ho nulla da nascondere ma questa è una grandissima cavolata cioè tutti noi abbiamo dei segreti tutti noi abbiamo qualcosa da nascondere cioè io tendo anche a fare un altro esempio molto spesso io sono nato comunque in un contesto totalmente digitale come la maggior parte dei millennial io sono millennial anzi non so se sono millennial non ci ho mai capito nulla di tutti questi acronimi ma immaginate che io sin da piccolo ho incominciato a condividere informazioni a Google giusto? magari avevo delle domande anche private cosa succede al mio corpo? come dovevo fare per? cosa dovrei comprare? tutte cose molto molto private ecco io ho condiviso un sacco di informazioni tutti noi condividiamo un sacco di informazioni io spero e credo che comunque in futuro grazie al lavoro mio grazie al lavoro di tantissime altre persone riusciremo ad avere un po' più di privacy nell'intera nostra diciamo vita digitale oggi è molto difficile perché i dati sono il nuovo petrolio ok? Daira is the new gold is the new black oil qualcosa del genere dati normali immaginiamo dati finanziari ok? bitcoin ci permette ripeto di avere comunque un hard money denaro denaro forte non controllato da nessuno non incensurabile non inflazionabile a piacimento senza coercizione e anche privato trasparente ma privato quindi ripercorriamo tutto immaginiamo quindi di avere questo questa grande diciamo questo grande calderone con un sacco di informazioni sparpagliate ok? io pian piano potrei incominciare a clusterizzare a creare dei cluster di queste informazioni e a capire voi esattamente che tipologia di utente siete nella blockchain chi siete cosa fate perché in realtà bitcoin è molto più complesso di quello che sembra purtroppo io finora ho parlato di indirizzi ma ci sono più tipologie di indirizzi per esempio ho parlato di commissioni ma non c'è una commissione fissa non c'è uno standard vero e proprio in bitcoin e quindi in base a come voi utilizzate bitcoin in realtà siete unici esattamente a come utilizzate internet adesso vanno di moda gli adblocker sono dei programmi che vi nascondono la pubblicità che vi nascondono i tracker perché non volete dire per esempio a google o a meta o ad amazon se l'altro ieri avete comprato la cuccia per il cane o se preferite diciamo che ne so bitcoin a qualche shitcoin ok capite bene che in realtà non basta cercare di nascondere queste informazioni perché in base appunto a come voi utilizzate internet potete venire categorizzati in ogni modo specifico per esempio se voi pensate di essere anonimi o privati utilizzando questi programmi per nascondere la vostra identità sappiate che ci sono mille altri modi per tracciarvi perché per esempio se avete una testiera in italiano quella è un'informazione se il vostro diciamo dispositivo è android o apple è un'altra informazione se la risoluzione del vostro schermo è x o y è un'altra informazione e questa cosa qua avviene esattamente su bitcoin non basta cercare di proteggere i dati cioè non basta cercare di privatizzare tra virgolette i dati che voi inviate al network o alla blockchain di bitcoin in questo caso ma anche come li inviate come voi utilizzate internet come voi utilizzate bitcoin adesso a me piacerebbe insieme a voi cercare di tracciare degli utenti casuali su bitcoin spero che si veda io da qua vedo ben poco vedete no si o no ah bene fantastico allora questo è un peccato perché non la parte di barato dello speech ma cercherò comunque di insegnarvi qualcosa allora come vi ho detto prima ogni transazione di bitcoin è pubblica ok come vi ho detto prima in realtà ci sono più tipologie di indirizzi e io in base a queste informazioni trasparenti pubbliche posso appunto tracciarvi in modo molto molto semplice perché come ho detto prima non ci sono solamente indirizzi ci sono tipologie di indirizzi ogni transazione di bitcoin è formata da input e output da entrate e uscite ok quanti bitcoin invio spendo che è il termine giusto e quanti bitcoin ricevo nel caso dell'input che troviamo qua a sinistra questo per esempio è un indirizzo particolare che inizia con bc1 ok lo chiamiamo l'indirizzo bc1 quindi è l'indirizzo che invia dei bitcoin che spende dei bitcoin e crea due output che essenzialmente uno è il destinatario e l'altro è il resto che torna a chi ha pagato che in questo caso hanno due indirizzi diversi quindi nel primo indirizzo in alto noi vediamo che c'è un bc1 e nel secondo indirizzo che è qua vediamo che c'è che inizia con 1 1.5v è quello che è ecco che già grazie a queste informazioni io non solo appunto posso vedere perché è andato pubblico quanti bitcoin ha speso questo indirizzo questa persona casuale che non so chi sia dietro sicuramente non io e vedo appunto che ha inviato 0.008 bitcoin a un altro indirizzo bc1 e poi è stato creato un altro output da 0.01 bitcoin a un indirizzo 1.5v eccetera 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 io posso essere al 99.9% sicuro non non posso essere sicuro al 100% poi vi spiegherò perché posso essere sicuro che l'indirizzo bc1 è il resto che torna indietro al mittente ok mentre l'indirizzo 1.5 bla 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 che ha ricevuto 0.1 bitcoin è effettivamente il destinatario perché se l'indirizzo bc1 invia un indirizzo diverso ovviamente riuscirò a riconoscere il resto che torna al mittente e invece posso riconoscere invece l'importo che arriva al destinatario questo è essenzialmente il primo modo per tracciare un utente di bitcoin purtroppo bitcoin funziona con un concetto chiamato di UTX source quindi unspent transaction output cioè voi non potete in realtà creare una transazione perfetta ok perché è esattamente immaginiamo che io stasera vado a mangiare una pizza ok pago con 20 franchi ho una mancorota da 20 franchi non so neanche se esiste da 20 franchi 20 euro ovviamente riceverò un resto ok ecco che nel caso della transazione con la pizzeria questa cosa qua avviene tra me e il pizzaiolo lui mi invia del resto io gli pago 20 franchi lui riceve 10 franchi mi dà indietro 10 di resto è la cosa che rimane tra me e lui su bitcoin invece è pubblica e io grazie a questa cosa qua del resto posso continuare a tracciare l'utente che ha inviato dei bitcoin inizialmente che ha pagato la pizza in bitcoin quindi capite che riesco pian piano a diciamo visualizzare tutte le sue transazioni a capire come spende il denaro non solo io che sono una persona casuale che semplicemente guarda dei dati pubblici ma anche il pizzaiolo un altro esempio se noi parliamo di pizza 11 anni fa circa forse anche 12 c'è stata la prima transazione in bitcoin per comprare effettivamente una pizza la prima transazione per comprare un bene fisico un certo un certo laslo quindi decise di mettersi d'accordo con un altro utente e comprò due pizze e una coca cola per 10.000 bitcoin e fu la prima transazione diciamo per un bene fisico tangibile in bitcoin quello è il problema che ai tempi non si capì non ce lo si capiva bene l'importanza del tema della privacy ok perché non c'era molta informazione disponibile e quindi l'aslo cosa fece andò a creare una transazione con 131 indirizzi diversi e quindi questa cosa è stato dire al mondo intero guardate che io sono il possessore di quei 131 indirizzi diversi quindi l'aslo ha detto ragazzi io possiedo tutti questi indirizzi e ha creato una transazione che l'atto privacy è una delle cose peggiore di sempre perché ha permesso al destinatario ma anche a me effettivamente di vedere il patrimonio di l'aslo di 131 indirizzi diversi questo è un altro tipo di transazione che non va bene fare ok perché essenzialmente voi state comunicando al mondo intero un sacco di informazioni dovreste evitare di farciò o ancora un'altra cosa differente in questa transazione per esempio vediamo appunto un indirizzo BC1 che crea una transazione con tantissimi output diversi e vediamo indirizzi che iniziano con 1 vediamo indirizzi che iniziano con BC1 e vediamo indirizzi che iniziano con il 3 quindi adesso in questa transazione noi abbiamo tre indirizzi diversi ok abbiamo tre categorie di utenti diversi gli utenti che utilizzano diciamo gli indirizzi BC1 gli utenti che utilizzano gli indirizzi che iniziano con il 3 gli utenti che utilizzano gli indirizzi che iniziano con l'1 ancora io posso supporre un sacco di cose posso essere abbastanza sicuro dove si trova il resto chi c'è dietro quegli indirizzi posso distinguere tutti i destinatari di una transazione perché purtroppo non c'è un unico modo di utilizzare bitcoin va bene riccardo però ci parli di tutti questi problemi ma dacci una soluzione la soluzione è l'educazione dovete capire come funziona bitcoin non dovete utilizzarlo solo per qualcuno vi dice di farlo dovete capire come funziona so che potrebbe sembrare pallosa come cosa però ripeto voi siete gli unici garanti della vostra sicurezza e privacy se volete utilizzare bitcoin nel modo sbagliato fatelo il 99% della gente lo sta facendo in questo momento e c'è gente curiosa come me che può ricavarne informazioni molto interessanti e io sono nessuno ripeto ricordatevi che il denaro è energia è informazione dovete tenere al privato queste informazioni o ancora facciamo un altro esempio in questo caso abbiamo a sinistra una transazione composta da due input quindi probabilmente l'utente ha utilizzato due indirizzi diversi per comporre una transazione e ha creato due output diversi spero che possiate vedere ma dubito vediamo che ad esempio nell'output numero 1 c'è un importo di 0.143151 bla 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 un casino totale mentre nel secondo vediamo 0.2000000 io cosa posso supporre da questa transazione posso essere sicura non al 99% forse un po' meno però posso essere abbastanza sicuro che l'output da 0.2 accompagnato da 7.0 sia effettivamente l'importo che il mittente voleva inviare al destinatario perché perché purtroppo noi umani non siamo bravi a essere casuali a non farci riconoscere è molto più semplice per noi utilizzare numeri tondi quindi in questo caso se io vedo una transazione che ha inviato un numero tondo con un re probabilmente con un altro output con un numero casuale posso essere abbastanza sicuro che il numero tondo sia effettivamente l'importo inviato al destinatario ok perché noi umani preferiamo ragionare a numeri tondi questo è un altro errore che dovete evitare non utilizzate mai i numeri tondi cercate di inviare magari un centesimo in più giusto per rendere casuale diciamo l'importo in bitcoin che volete inviare al vostro destinatario questi sono solamente quattro esempi potrei farvene altri mille mi occupo di questo io i bitcoin ovviamente come ci dicono nei telegiornali oltre a far bollire gli oceani e rendere il mondo un posto peggiore perché inquina bitcoin no in realtà è anche denaro sporchissimo utilizzato da criminali giusto bitcoin è la cosa perfetta per fare i crimini perché è denaro anonimo non c'è nessuno che controlla bitcoin possono scappare possono fare dei reati e scappare è una cazzata allora questo è l'esempio di un ransomware ovvero di un virus chiamiamolo virus che essenzialmente prende tutte le foto che avete tutti i documenti aziendali che avete e ve li blocca ok vi dice adesso devi pagare il riscatto se no non c'è di più niente gruppi di hacker magari sfruttano anche bitcoin per ricevere i riscatti ma se voi pensate che bitcoin sia lo strumento perfetto per scappare e non essere individuati state sbagliando di grosso perché grazie a tutte le informazioni che io vi ho mostrato prima in realtà a partire da un'unica transazione conosciuta di riscatto di ransomware di questo virus io posso essenzialmente vedere come l'hacker o il gruppo di hacker poi ha spostato i bitcoin perché è tutto trasparente è tutto trasparente se pensate che bitcoin sia denaro anonimo state sbagliando di grosso in realtà in realtà ovviamente noi vogliamo avere anche privacy giusto? perché se è tutto trasparente se non è anonimo se Riccardo è così bravo a sgamare dove spostate i soldi come cosa spendete se fate questo o quest'altro in realtà capite che bitcoin non può essere utilizzato come vero e proprio denaro perché deve avere anche bisogna avere la possibilità comunque di avere della privacy infatti poi col tempo la gente ha incominciato a cercare di creare degli strumenti che potessero preservare la privacy degli utenti di bitcoin perché nessuno di noi vuole essere vittima di uno spione come me giusto? infatti io non ho bitcoin per questo motivo perché non voglio che voi mi spiate quindi col tempo i developer di bitcoin hanno incominciato a creare degli strumenti che permettessero di acquisire privacy i cosiddetti mixer o mixing services ed essenzialmente grazie a alcune proprietà di bitcoin siamo riusciti a creare una transazione collaborativa con tanti altri utenti della rete in modo trustless senza porre fiducia a nessuno senza avere la paura che qualcuno possa fregarci i nostri soldi e contemporaneamente acquisire della privacy perché per esempio immaginiamo che ci siano Mario Luca Lucia Roberta Gennaro e Filippo che dicono cavolo Riccardo io non voglio che la gente capisca se preferisco mangiare la pizza margherito o la diavola quindi come faccio a avere un po' più di privacy ecco che potrebbero fare coin join si chiama coin join una transazione collaborativa che a sinistra abbiamo tutti quanti i mittenti ok che vogliono riacquisire privacy e a destra abbiamo tutti quanti i destinatari in realtà quindi input e output e la bellezza di questa transazione è che buona parte dei destinatari hanno lo stesso importo cioè ricevono lo stesso importo quindi nessuno né io né i partecipanti del coin join stesso possono stabilire se Mario diciamo chi sia Mario chi sia Lucia chi sia Roberta perché come vedete spero che si veda tutti gli importi da un bitcoin sono uguali tra di loro e anche tutti gli indirizzi utilizzati sono uguali tra di loro e questo permette quindi ai partecipanti del coin join di riacquisire privacy di non permettere a nessuno di continuare a tracciare il loro utilizzo di bitcoin c'è un problema vi ricordate tutto il discorso dei resti di cui vi ho parlato prima ecco che purtroppo i resti possiamo continuare a tracciarli e là si apre poi cioè potremmo tornare indietro parlare dei resti quindi purtroppo i resti su bitcoin sono cosiddetti tossici dovremo cercare di non creare dei resti è difficile col tempo lo farete sono sicuro che anzi sono abbastanza sicuro non certo che vi abbia acceso una lampadina e ripeto l'educazione è presente un po' ovunque oggi dovete però cercare veri educatori che possano aiutarvi e non fuffa guru che a cui non interessa nulla di voi e vogliono solamente vendervi fuffa due implementazioni di coin join le più utilizzate e qua si apre il concetto di anonymity set sono join market e wasabi wallet non sono perfette hanno molti problemi però sono un modo per migliorare e riacquisire un po' di privacy nel vostro viaggio dentro la tana del bianconiglio di bitcoin quindi vi consiglio di informarvi su questo tema ok vi consiglio caldamente di informarvi su questo tema perché appunto vi può permettere di riacquisire privacy in un futuro se avete utilizzato bitcoin in modo sbagliato fino a prima non solo tra le tante altre cose che noi possiamo fare utilizzare per migliorare la nostra privacy su bitcoin c'è anche lightning network ovvero un modo diciamo innovativo di spendere e ricevere bitcoin se li avete perché su lightning network non andiamo a condividere informazioni sulla blockchain noi non scriviamo transazioni e questa è una figata perché togliamo tutto quell'enorme problema della condivisione di informazioni sulla blockchain che ricordiamo è trasparente visibile da tutti indelebile perché una volta che si mette un dato sulla blockchain non si può cancellare se quindi facciamo transazioni con lightning network questi dati noi non li scriviamo sulla blockchain abbiamo molta più privacy lato blockchain però ci sono ancora degli aspetti di privacy lato network che lo dobbiamo considerare in generale come funziona lightning network poniamo per esempio che io voglio fare una donazione al podcast di ricchi che tutti noi dovremmo fare se ripeto se abbiamo bitcoin però ricchi siamo degli sfigati che dobbiamo fare non le abbiamo le ho persi ieri ricchi eh allora quindi ragazzi immaginiamo che io voglio fare una donazione al podcast di ricchi ovviamente potrei fargliela tramite una transazione normale sulla blockchain quindi ricchi potrebbe vedere che ho zero bitcoin o magari ho un satoshi e vedere tutto quello fatto prima oppure potrei utilizzare lightning network quindi poniamo per esempio che io abbia un canale con te viene chiamato canale di pagamento e tu a tua volta abbia un canale di pagamento con ricchi in questo caso io sfrutto te per fare una transazione a lui quindi diciamo che tu sei un livello un layer di privacy si tra me e lui ok in realtà potrei sfruttare te te e te per arrivare fino a lui e magari voi tre non vi conoscete tra di voi quindi nessuno di voi tre può ricostruire la transazione l'esatto importo che io voglio inviare a ricchi non potete sapere da dove arriva e non potete sapere a chi arriva questo concetto è chiamato onion routing ovvero appunto magari qua c'è riccardo e laggiù c'è ricchi quindi punti domanda che sfruttano Alice un altro nodo e Bob per effettuare la transazione e questa è una cosa molto carina ovviamente vorrei parlare per ore di cos'è lightning network in modo più tecnico non ho abbastanza tempo lascerei comunque 15 minuti domande tra poco così che possiamo insomma chiacchierare su altri argomenti che magari non vi sono ancora chiari ci sono anche altre cose come sidechain quindi livelli particolari di blockchain di bitcoin quindi che sfruttano bitcoin e non sfruttano shitcoin o altre cavolate che cercheranno di vendervi mi raccomando no cioè allora il punto qual è ragazzi dovete accumulare bitcoin ma perderli non non accumulate shitcoin ok comunque c'è la possibilità di utilizzare comunque anche altri livelli come liquid network una sidechain di bitcoin per avere più privacy nel fattore di transazione riceve transazioni insomma ci sono tantissime cose perché appunto nel caso di liquid gli indirizzi sono visibili ma gli importi sono confidenziali sono nascosti quindi abbiamo diciamo una superficie d'attacco minore condividiamo meno dati a livello di blockchain e questo è il mio speech comunque voglio ringraziare voi Satoshi Nakamoto ovviamente bitcoin.org master in bitcoin quindi un sacco di siti web da cui ho rubato le immagini perché ovviamente purtroppo non sono un grafico quindi ho dovuto sfruttare qualcuno è sempre importante comunque secondo me dare credit a chi fa questo tipo di cose e in realtà volevo anche dirvi che c'è un gruppo Telegram se volete imparare qualcosa sotto questi temi di sicurezza e privacy di bitcoin dove non voglio vendervi assolutamente alcuna shitcoin truffarvi o fare quant'altro diciamo che è una sorta di community per aiutarsi a vicenda ci sono tantissime persone che sono disposte comunque ad aiutarvi non siamo bitcoin only ovviamente tutti vittime di incidente nautico e a proposito di incidente nautico vorrei farvi una domanda ma nella nella slide numero tre mi pare nella slide famosa in cui mostravo l'hardware wallet sotto al mare e il seed vi ricordate quante parole aveva il seed il numero di parole che c'erano nel foglietto di carta no dovete alzare la mano ve lo 24 grande 24 quindi sei fortunato perché vorrei regalarti un hardware wallet che ti permetterà comunque di migliorare il tuo viaggio in bitcoin non ne ha però lo poserei per fare dei test e a tal proposta appunto vorrei ringraziare coldcard coin kite che è un'azienda che produce hardware wallet che mi ha permesso comunque di fare questo regalo anche domani potrebbe non posso dirlo ma potrebbe essere che regali un altro hardware wallet se sono fortunato ovviamente cerca di perderli tutti nel mentre cerca di utilizzarlo bene perché ci sono tante cose che puoi fare grande Rick coin kite coin kite eravamo insieme tra le altre cose in quel giro in barca ieri non facciamolo mai più perché siamo veramente pessimi come marinai bitcoin privato ma pubblico per essere privato deve essere usato bene tanti elementi diversi immagino tante domande quindi non siate timidi sulle mani eccolo lì il vincitore grazie una domanda solo te prima scusa te prima facevi vedere che se spendi bitcoin di solito hai nella transazione l'uscita e hai due uscite perché hai anche il resto ma la fee del miner dove si configura? il miner? la fee che va al miner dove si configura nella transazione? allora ogni volta che tu fai una transazione essenzialmente competi con tutti gli altri fortunati che hanno dei bitcoin per scrivere e far scrivere questa transazione nella blockchain più paghi e più veloce questa transazione il problema è che sempre siccome non c'è uno standard tu in realtà puoi scegliere un numero diciamo casuale o dei numeri che ti consiglia un wallet ok quindi il software che ti permette di gestire bitcoin quindi se in realtà il tuo wallet per esempio usa sempre numeri tondi e non ti permette di utilizzare numeri con la virgola questo è un altro dato che io potrei utilizzare per tracciarti se so per esempio che Electrum che è uno dei wallet più utilizzati sfrutta solamente fee commissioni senza virgola questo è un altro dato ulteriore che mi permette appunto di fare la cosiddetta clusterizzazione cioè creare dei cluster cercare di individuarti nella blockchain secondo alcuni parametri in generale la fee cioè la commissione che tu paghi per effettuare una transazione è una piccolissima parte del modo in cui posso tracciare i tuoi bitcoin ci sono cose molto più importanti da considerare appunto i numeri tondi gli indirizzi che utilizzi resti e quant'altro la regola principale a prescindere da tutto ciò è che dovete considerare l'idea di utilizzare un nodo di bitcoin perché siccome il network è decentralizzato e voi dovete richiedere il saldo di un indirizzo specifico capite bene che se il saldo ce l'avete in casa se la storia di bitcoin ce l'avete in casa beh non lo chiedete a nessuno cosa diversa se invece voi non avete un nodo a casa ovvero immaginiamo per esempio che voi vi collegiate a un nodo casuale nella rete di bitcoin per conoscere lo stato il saldo di un vostro indirizzo cioè voi andate a comunicare il vostro ip chi siete in internet essenzialmente e andate a comunicare anche il possesso di un inizio bitcoin potenzialmente perché se tu per esempio che sei abcz utente abcz ip 123456 viene a chiedere a me al mio nodo il saldo di uno specifico indirizzo io posso essere abbastanza sicuro che ripeto ci sei tu dietro no? quindi ragazzi è importantissimo che utilizziate un nodo vostro oppure un nodo di qualcuno di cui vi fidate se volete sempre entrando nel gruppo telegram io metto a disposizione uno dei miei tanti nodi di bitcoin per chi vuole perlomeno diciamo migliorare la propria privacy ovviamente non dovreste fidarvi di me io non ho alcuna intenzione a tracciarvi la mia intenzione principale è quella di insegnarvi appunto l'importanza di temi di sicurezza e privacy di bitcoin perché ci credo fortemente la mia ragione di vita diciamo il mio scopo nella vita cercare comunque di migliorare questa società estremamente disagiata a livello di sicurezza informatica e privacy digitale quindi posso darvi una mano però l'obiettivo finale vostro è quello di essere indipendenti non dipendere da me non dipendere da nessuno bitcoin vi permette di essere indipendenti però vi richiede comunque di tenervi aggiornati capire cos'è bitcoin purtroppo non tutti sanno esattamente come funziona la banca come funziona una carta di credito o quant'altro magari la maggior parte della gente non interessa però dovete capire che questa cosa di dipendere dagli altri ci ha torto la libertà ok la libertà di espressione di parola di spendere denaro come vogliamo bitcoin ci permette di tornare un attimo indietro fare un passo indietro ci permette perlomeno sotto il lato del denaro di spendere il denaro che vogliamo con chi vogliamo senza alcun tipo di censura di riceverlo da chi vogliamo però questo se volete fare in modo privato dovete studiare dovete educarvi dovete capire che è una cosa che è nata diversi anni fa e che rimane qui cioè resterà qui spero e soprattutto una volta che siete abbastanza educati educate da altre persone perché solo così riusciamo veramente a cambiare il mondo bravo Rick bravo nel nostro nel nostro mondo usiamo la frase a un grande potere corrispondono grandi responsabilità che è una citazione di Spider-Man è un po' da sfigati ma dal resto siamo nerd quindi va bene anche Spider-Man fammi aggiungere una cosa oggi è diventato abbastanza facile avere il proprio nodo e il costo da sostenere per avere un proprio nodo è ridicolo quindi sicuramente un utilizzo pro di questa tecnologia ma che è concretamente alla portata di tutti altre domande se ce ne sono potete chiedere come tutelare la vostra privacy potete fare domande laggiù allora pronto ok è accennato prima al fatto resti quindi come facciamo a non avere resti qua si crea comunque una cosa un argomento un po' più tecnico perché ovviamente ti la faccio facile no avendo poco tempo di disposizione ho cercato di spiegarlo comunque abbastanza velocemente in realtà ci sono delle modalità per far ciò però tu mi chiedi come fare per non creare resti devi creare una transazione che non ha resti per assurdo perché come ti ho detto prima bitcoin funziona con il concetto di UTXO unspent transaction output ok parliamo per esempio che tu abbia un input da 0.1 bitcoin e voglia inviare 0.098 bitcoin ok cosa fa il tuo wallet va a utilizzare quell'input da 0.1 crea una transazione che ha due output 0.098 che va al destinatario e 0.002 0.02 che torna a te la domanda che devi porti è quanto vale la tua privacy cioè perché ovviamente se si tratta di cifre astronomiche ovviamente vorresti indietro il resto però molte altre volte potenzialmente potrebbe essere più intelligente inviare al tuo destinatario lo 0.1 intero capito è un po' il premium che tu paghi per non condividere ulteriori dati all'esterno vedete un po' come mancia essenzialmente molta gente quando paga una pizza gli danno 50 centesimi di resto lascia il resto come mancia devi vederlo allo stesso modo devi capire se economicamente parlando ne va la pena ok ma ripeto ci sono moltissimi altri modi per creare transazioni senza resto utilizzando bitcoin on chain utilizzando lightning network utilizzando liquid utilizzando degli swap utilizzando coin join un sacco di roba veramente figa non ho abbastanza temo per parlarne però su youtube ho fatto un sacco di video molto ballosi te lo dico è proprio lunghi alla gente non interessa sapere come non perdere soldi allora la cosa divertente è che io spiego come non perdere soldi sicurezza e privacy poi spiego anche come perderli in realtà perché l'ho perso ieri e siamo tutti sfigati però ripeto vedi cercate tutti voi di seguire anche i canali di informazione ed educazione che vanno oltre al concetto speculativo di prezzo di valore e quant'altro perché c'è molto altro dietro da imparare sicurezza e privacy in primis quindi datevi del tempo studiate perché è molto molto importante perché bitcoin sta cambiando il mondo in una rivoluzione e resterà qui per un bel po' di tempo grazie Riccardo Masutti grazie bro tra le altre cose cogliamo l'occasione nel ringraziarti per ricordare a tutti voi e soprattutto ai tanti ho visto che siete veramente tanti che ci state seguendo su youtube che Riccardo Masutti sarà di nuovo sul palco 21 domani alle ore 11 con uno speech su i do e i don't del bitcoin una specie di etichette cosa possiamo fare e che cosa va fatto e cosa assolutamente non va fatto quindi domani alle 11 l'appuntamento ancora sul palco 21 con Riccardo Masutti gratuitamente aperto a tutti portate i vostri amici perché come potete vedere qui ci si diverte ci si diverte c'è un clima salvadoregno esatto che non si aspettava nessuno ringraziamo il comune di Lugano per questa serra in cui stiamo tutti muschiando e ma è quello